... ... ... ... ... ... ... ... Dov'è? Dov'è? Schiacci o che hai detto? Ok, devi schiacciare ok e basta. Qualcuno mi conoscete a dire che non ho mai fatto. Anche in tempo, in generale. Dani, conti tu. Dimi quando ci sei. Vai! Vai! Quattro Quattro 32 33 34 respira 35 36 37 respira 28 29 30 40 buono respiri profondi ok vai su di nuovo fanno ancora uno si ok rilassata rilassata tranquilla rilassata ok va bene uno due buono brava un bel respiro profondo e si ripara uno due brava tre e quattro buono respira calma e tranquillità che c'è ancora a te vai uno due tre quattro buono di nuovo due respiri profondi e via uno due tre quattro cinque dai dai l'ultimo e sei via respira che stanno bene non guarda il tempo non guarda il tempo uno due tre si parte dai uno due tre quattro cinque eh no 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 e non è sì ok otto eh subito subito dai uno 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 due tre quattro cinque sei sette l'ultimo sette non troppo recupero eh siamo quattro minuti bene sti profondo si fa respira vai uno due tre quattro brava uno due dai uno uno due ancora due dai subito uno brava dai dieci bene e fatti bene levati le dalle balle uno due tre quattro cinque sei ancora quattro dai ancora due uno via buono lascia 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 spesi dopo spesi dopo dai concentrato manca molto di tre recuperi brevi tra l'una l'altra uno due tre giù recupera ok tre secondi uno due tre di nuovo dai un tre uno due due stiamo a cinque vai via due vieni tesi vieni tesi con le punte dai uno due ancora uno dai bravo via dai subito tantissimi dodici uno due più corgi che puoi tre bravo così quattro quattro vai cinque dieci secondi dai sei sette otto uno otto